... Mercoledì 5 ottobre, buongiorno Regione, come sempre, come ogni mattina in diretta dal territorio. Allora apriamo subito una delle finestre sul territorio lombardo. Andiamo in provincia di Varese a vedere Brebbia. Questa è l'immagine che ci arriva proprio dalla provincia di Varese. Il cielo sembra sereno, comunque leggermente nuvoloso, ma adesso sentiamo proprio dall'ARPA che cosa ci aspetta per le prossime ore. Lo facciamo con Davide Dallalibera. Buongiorno. Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi arriva il vento da est più fresco che apporterà un sensibile calo delle temperature anche in pianura che sarà avvertito comunque a partire dalla sera e soprattutto domani. In questo momento invece il cielo risulta essere completamente sereno quasi ovunque sulla Lombardia. Qualche nuvola bassa è presente soltanto sull'Alta Valtellina e soprattutto sulla conca di Livigno. Per quanto riguarda le temperature, in questo momento comprese tra i 7 e 10 gradi in pianura con valori fino a 14-15 gradi sul milanese. Sul fondo valle valtellinese comprese le temperature tra i 6 e 8 gradi. Per ora è tutto, a più tardi per gli aggiornamenti, i dettagli della previsione per i prossimi giorni. Grazie all'ARPA ci sentiamo più tardi.